Ciao a tutti ragazzi, sono Player45 e oggi vi racconto la storia di Red Dead Redemption Saga La storia di questa serie bellissima che da 2018 è la storia migliore di tutti i videogiochi di sempre E ecco, iniziamo dal 2 e dall'1 perché Red Dead Redemption 2 è ambientato prima dell'1 e l'1 dopo il 2 Quindi, ok, cominciamo La banda di Dutch van der Leyen è una banda di criminali e fuori legge che sono alla lotta contro il governo per sopravvivere Visto che la civilizzazione si sta espandendo troppo Ok, dopo una rapina fallita a Blackwater per colpa di Micah Bell che ha insistito a Dutch, il capo, di farla La banda si ripara in un accampamento in mezzo alla neve abbandonato chiamato Colter Dove, dopo aver lasciato la banda lì al caldo, Arthur, Dutch e Micah vanno a salvare una ragazza, Sadie Adler Dagli Udriscoll che la tengono in prigionia dopo aver ucciso il suo marito Jake Adler Sadie Adler, Jake Adler E... Arthur interroga un po' questi Udriscoll e gli dicono che vogliono fare una rapina a un treno Dopo, Arthur, il giorno dopo, Arthur e Javier Escuela vanno a salvare John che è stato sbranato dai lupi Però è ancora vivo E dopo averlo riportato all'accampamento Praticamente Arthur E la banda con Dutch Vanno all'accampamento degli Udriscoll Per assaltarlo E prendere un po' di informazioni sul colpo che vogliono fare Perché loro gli vogliono fregare il colpo Prendendo delle informazioni e rubando della dinamite Ecco Dopo aver assaltato uno dei loro accampamenti Arthur e Pearson vanno... Cioè, Arthur e Charles vanno a cacciare dei cervi Sparandoli per mangiarli Dopo Arthur e tutti vanno a fare la rapina al treno Saltandoci sopra E rubando tanti soldi Questo treno appartiene a Carnival Levitus Carnival Non so se si pronuncia così Lui è uno che... È uno dei governi che mantiene tanto la legge Ecco Dopo aver rapinato il treno Visto che... Visto che adesso la neve si sta sciogliendo E possono andare verso... Verso la prateria Verso... Andarsene dalla neve Si accampano a Horshow Overlook Vicino a Valentine Ok Arthur e... E... Roverendo Swanson Vanno... Cioè, Arthur raggiunge Roverendo Swanson Perché lui è ubriaco E lo deve aiutare a non suicidarsi da un treno Dopo averlo salvato Perché un treno lo stava per investire Arthur con Zio E le tre ragazze Karen Mary E... Tilly Vanno a Valentine Per un po' fare shopping Dopo Arthur salva Karen che è stata Picchiata da un tizio In un hotel a Valentine L'hotel chiamato Saint Denise Dopo un po' Dopo aver riportato le ragazze Zio a... All'accampamento Arthur Va con Javier Escuela A... Praticamente Al saloon di Valentine Per... Per vedere un po' quello che succede Però La situazione non va bene Perché si scatta una rissa E Arthur deve combattere con un ciccione Per... Per salvare Ecco Per salvarli E... Dopo averlo abbattuto Arriva un tizio che Dice ad Arthur Di averlo visto durante Il colpo a Blackwater Lui non segue Fino a farlo cadere da un burrone Ma però prima di cadere Arthur lo salva E... Li dice che non è mai stato Lui ci crede Anche se in verità c'è stato Poi Arthur e Hosea Vanno A cacciare Un orso leggendario E dopo tantissimo Dopo aver dormito anche Perché il viaggio è lunghissimo Purtroppo non sono riusciti a trovare L'hanno trovato però Poi è scappato via Perché è stato un pochino Sbranato da Arthur Ecco Poi Arthur Dice E John Ormai che si è ripreso Vanno da Kyrian Quello che hanno Rapito Dopo L'assalto All'accampamento Dei Dice Dice Che volevano fare il colpo Ma la banda di Dutch L'ha fregato Ecco Lui è uno che Arthur L'ha preso appunto Dopo Dopo l'assalto E... In tortura Lo obbligano a dire A loro Dove si trova Il nuovo accampamento Dei Lodriscol Visto che l'altro È stato assaltato E gli dicono Che si trova In una zona Vicino a Fort Wallace Vabbè E loro ci vanno Assaltano il posto Per trovare Colm Ma indovinate un po' No Questa lotta Tra Colm e Dutch Questa faida È iniziata Perché praticamente Colm Ha ucciso La moglie di Dutch E Dutch Ha ucciso Il fratello Di Colm Dopo questo Arthur Aiuta Osea Con Simius Un ricettatore Di Di Ranch Emerald A portargli Delle caprie Così Per un po' Aiutarlo Dopo Quando torna All'accampamento Arthur Dutch Dice ad Arthur Che Micah È stato Messo in prigione È stato Arrestato Per via Di Omicidio Allora Prima di fare Prima di andarlo Salvarlo Arthur e Lenny Si ubriacano Al bar Poi Arthur raggiunge Strawberry Per salvare Micah Dopo aver fatto Una strage A Strawberry E dopo aver salvato Micah Arthur Leopold Strauss Chiede ad Arthur Se può andare A restituire Dei debiti Sulla banda A un tizio Che non mi ricordo Come si chiama Se non sbaglio Non mi ricordo Vabbè Dopo aver preso I soldi Il tizio Li spara in faccia Cioè no Non li spara in faccia Scusate Li sputa in faccia Però poi Alla fine Arthur si dimentica I soldi Che genio Che è Dopo questo Arthur riceveva Un telegramma Da Mary La sua vecchia ragazza Di tanto tempo fa Se può andare Ad aiutarlo Da suo fratello Che è stato preso Da Da dei celloniani Che sarebbe Una banda di religione Che vuole Appunto Di nascosto Uccidere Il fratello Di Mary Dopo averlo salvato Arthur Cioè Sceriffo Chiede ad Arthur Sceriffo di Valentine Chiede ad Arthur Di andare A A catturare Un tizio E poi riportarlo Ecco Dopo averlo catturato Si scopre Dove si trova Sean Uno che Durante la La Uno che Durante la Durante La rapina Blackwater Si è stato preso Dopo averlo salvato Con Aver Tre Lonely E Charles Praticamente John Li va a spiegare Che Vogliono fare Una rapina A un treno Arthur John Sean E Charles Quello che hanno appena Preso Ecco Dopo aver preparato Tutte le cose Per il colpo Ecco qua Che Inizia Il treno Arriva Rapinano Il treno Derubano I passeggeri Scappano Via Dopo Un po' Per tranquillizzarsi Il giorno dopo Arthur Raggiunge Jack Il figlio Di John Per pescare Assieme Però Mentre pescano Arrivano I Pinkertons Sono quelli Tipo i poliziotti Che chiedono Ad Arthur La testa Di Dutch In cambio Della libertà Per Arthur Ovviamente Arthur Non accetta Dopo Micah Visto che Si è allontanato Un po' Da accampamento Perché Dopo Essere salvato Ha litigato Con Un po' Con Dutch Lui si nasconde Vicino Nelle zone Di strawberry Allora Micah Invita John Per Per Rapinare Una diligenza Dopo averla Rapinata Simius Chiede ad Arthur E John Di Di prendere Delle pecore Capre E portarle Dal recettatore Di Valentine Dopo averlo fatto Dutch invita Arthur A bere Un drink Al saloon Di Di Valentine Dopo aver Bevuto Un drink Come io adesso Fuori dalla finestra Arriva Le Victus Cornwall Che i suoi uomini Tengono in ostaggio Strauss E John Marston Per tutti i furti Che La banda di Van der Leand Ha commesso Su di lui I due Treni rapiti E così Allora Arthur Salva i due E li riporta All'accampamento Però purtroppo Carnival Riesce a scappare Prima di ucciderli Dutch Chiede Ad Arthur E Charles Di andare A cercare Dei Un nuovo posto Dove accamparsi Visto che Troppe persone Sanno dove si trovano E raggiungono Una famiglia Teresca Che in cambio Della salvezza Del padre Li danno il posto E inoltre Li regalano anche Un lingotto d'oro Che vale 300 dollari Arrivati al nuovo posto Tutta la banda Raggiunge lì E E Arthur Visto la nuova Sadie Quella Che abbiamo preso All'inizio Non si ambienta Molto bene Soprattutto con Il cuoco Pearson Allora Arthur porta Sadie A fare shopping A Rhodes Ma lei Non è una Tanto da shopping Come Immagino Tutte le donne E dopo aver Sparato dei tizi Per colpa sua I membri Del Lemoyne Che sono quelli Che illegalmente Proteggono Il Lemoyne La zona di Rhodes E Saint Denise Che sarebbe New Orleans Nella vita reale Tornano All'accampamento Poi Archibald Archibald Mentre Mentre Arthur Cioè Allora Arthur Sia i Dutch Vuole andare a pescare Nei presidi Lodes Ma mentre Aspettano Un treno In mezzo Ai binari Mentre Aspettano In coda C'è un Un camion Che porta Un camion Con su Archibald Che porta Su Trin Lonely In cambio Di salvare Trin Lonely La banda Di Dutch Diventano Sceriffi E Arthur Salva Salva Una rapina A un treno Che sta Succedendo Ovviamente Archibald Non sapeva Che sono Tizi illegali Quelli di Dutch Ecco Dopo aver fatto Un lavoro Per Archibald Avr rubato Del moonshine Per poi Fare una cosa Sul conto Di Braithwaite Arthur Viene a sapere Da uno dei grey Che ama Uno dei Braithwaite Ma però I grey Braithwaite Si odiano Tanto E hanno Tanti problemi Visto che È una grande Faida Ormai Da cento anni Allora Arthur Si deve Introfulare Di nascosto Dai Braithwaite Per Dargli Questo messaggio Che uno dei grey Voleva dargli Perché si amano Questi due Ecco I Braithwaite Hanno bisogno Di quel moonshine Per Praticamente Per praticamente Venderlo gratis Al saloon Di Rhodes Allora Arthur E Hosea Lo fanno Con dei finti nomi Però dopo Vengono scoperti Dalla banda Delle moine E scappano Una volta Seminati Arthur Va a cercare Triloli Che è stato Rapito Da uno Dei Braithwaite E dopo averlo salvato Lo riportano Al proprio posto Poi Triloli In cambio Di quello Che è successo Che era D'Arthur Di andare A rapinare Una diligenza Per Dove C'è su una cantante Molto famosa Dove ci sono Tanti soldi Poi Arthur Parla con Zio Quello della banda E poi Arthur Zio Charles E Qualcun altro Vanno a rapinare Un'altra diligenza Perché Zio Aveva voglia Però Si fermano Durante la notte Di nascosto In una casa Perché Sono stati avvistati E Durante la notte Bruciano tutto il posto E se ne vanno via Dalle foreste Dopo averli uccisi tutti Li tornano felici E contenti Nell'accampamento Dopo Len invita Ad Arthur Di Andare a Andare a Sgomberare Un nuovo posto Che si chiama Shady Bell Che non si sa mai Magari in futuro Ci servirà E dopo aver rubato Anche della dinamite Da quel posto Tornano all'accampamento Karen E Bill Chiedono ad Arthur Di andare A rapinare Una Una Come si chiama Una banca Valentine Dopo averla rapinata Delle persone Che lavorano per i Grey Dicono che Dei Braithwaite Dicono ad Arthur John Che se loro rubano Dei cavalli Braithwaite E li danno ai Grey Possono regalarli Più di 5.000 dollari Loro rubano i cavalli E li portano dai Grey Ma Lo bottino È solo 200 dollari Arthur ovviamente Non è molto Contento Su di questa cosa Poi Arthur e Sean Per vendicarsi Di quello Che hanno fatto I Grey Vanno A Bruciarli Il campo Con il tabacco Con il Moonshine Rimasto Da quando Arthur e Hosea Hanno venduto Gratis Quello Ecco Ecco Dopo Dutch Micah E Arthur Vanno ad assistire L'appuntamento Con Con Colmo Driscoll Un po' Per sistemare le cose Arthur fa un po' Da sorveglianza Però Viene poi Rapito Dai Driscoll E dopo Essere scappato Essere torturato Tantissimo Torna All'accampamento Ferito E dopo Qualche settimane Arthur Raggiunge Micah Per Fare una passeggiatina Tranquilla Con Con Sean Micah Arthur Sean Ecco Basta Però Mentre camminano Sean viene sparato E comincia Un Un enorme Attacco Dopo Dopo aver sparato Tutti Questi Sean Purtroppo È morto E lo buttano Per terra Ecco Dopo Quando Arthur Tornano L'accampamento Abigail Viene impazzita Dicendo Oh Hanno rapito Jack Hanno rapito Jack Il figlio Di John Allora Vanno dai Braithwaite Perché Pensano Che Siano stati Loro E Vanno A vendicarsi Ecco E Dopo aver Bruciato La loro Villa È così Alla fine La Braithwaite La tizia Li dice Che Jack Si trova A Saint Denise Da Angelo Bronte Oppure In Italia A Roma Allora Il giorno dopo Arrivano i Pinkerton All'accampamento Dicendoli che hanno tre giorni per scappare Allora Tutta la banda si trafisterisce A Shady Bell Nella zona che Arthur e Lenny Hanno sgomberato Perché quel posto è anche più vicino a Saint Denise Dove potrebbe trovarsi Jack Ecco Ecco qua che Arthur Va A Prendere informazioni Per sapere dove si trova Angelo Bronte Dopo essersi fatto Derubare Da dei bambini I bambini Li dicono Che Lui si trova Nella villa A Ovest Di Saint Denise Una città Ecco Lui raggiunge questo posto Con John e Dutch E dopo aver fatto amicizia con Bronte Arthur e John devono Uccidere dei Tizi che Lavorano per rubare Nei cimiteri In cambio di Jack Dopo averlo fatto Angela Bronte Ci ridà Jack Ecco E tutti festeggiano Wow wow Che bello Jack è tornato Dopo Mary Manda un altro telegramma Ad Arthur Per Aiutarla Che suo padre Ha rubato un anello Per venderlo Per tanti soldi Un anello Di Mary Allora Arthur Riprende quell'anello E lo riporta Mary E dopo Guardano un bel film Insieme Dopo Praticamente Arthur E Susan Raggiungono Tilly Per salvarla Da un fuorilegge Chiamato Anthony Foreman Dopo aver Ucciso O Lasciato andare Anthony Foreman Riportano Tilly L'accampamento Angelo Bronte Ha invitato Dacce La banda A una festa Nella sua villa Un po' per Vedere cosa succede E cercare informazioni Arthur Cerca delle informazioni Che vogliono fare Praticamente Una festa Un battello Ecco Dopo Aquila Che vola No Scusate Pioggia che cade Il gang Il capo Della banda Degli indiani Chiede ad Arthur Di aiutare Suo figlio Aquila che vola A Praticamente Attaccare Una fabbrica Tessile Vicino a Valentine Dopo essere Andati lì Dopo aver aiutato Aquila che vola Arthur Fa questa appunto Giocata a poker Sul battello In mezzo al lago In mezzo al fiume Di Saint Denis Dopo Questa nottata Dopo verrà anche Rubato tanti soldi Che bello Arthur parla con Dutch Il cami Certo il camino Al balcone Del Di Shady Bell La loro base E vedono Kieran Con Senza testa Con la sua testa In mano Ecco Dopo Perché sono gli Odriscoll Che hanno Lo hanno ucciso E hanno attaccato L'accampamento Di Dutch Ma dopo averli Uccisi tutti Purtroppo Devono buttare Kieran Nelle palude E farsi mangiare Dei coccodrilli Che bella fine Che hai fatto Dutch Ha l'idea Di andare A Tahiti Per vivere Tranquilli Senza problemi E così Però Prima di farlo Vogliono Visto che Bronte Ha detto a Dutch Che Nella stazione Di tram Ci sono tanti soldi Ecco Loro vanno A rapinare Questo posto Ma in verità Non ci sono Tanti soldi E dopo Essersi schiantati Con un tram Dutch perde La testa Cioè nel senso Che Non che l'ha persa Però Comincia un po' Impazzire Visto che Ha preso Un colpo In testa Dopo essere scappati Loro capiscono Che Angelo È proprio Visto che Le ha detto Una bugia Allora Loro Tutta la banda Va ad attaccare La sua viglia E soffocarlo In un modo Bruttissimo Ultima cosa Prima di andare Definitivamente A Tahiti È di Rapinare La La banca Più potente Delle Moine La banca Di Saint Denise E dopo averla rapinata Che finisce molto male Osea muore Lenny muore Mentre scappano Dai tetti Perché il Pinkerton Spara Osea E dopo Purtroppo Questi due morti La banda sale Su una barca Di nascosto Per poi andare A Tahiti Ma la barca Durante la notte Affonda E Arthur Si ritrova Solo In un'isola Chiamata Guarma Ecco In un'isola Chiamata Guarma Dopo aver Dopo aver Ecco Mentre loro Mentre Arthur Trova la banda E vengono Rapiti da Dei tizi Lì Loro vengono Salvati Da uno Di colore E Uno che si chiama Fussar Che lavora Che lavora Anche a Saint Denise E anche Anche Guarma Il tizio di colore Li salva E li porta via Però Javier Viene Viene preso Questo Javier Qua E Dopo aver attaccato Un po' Di fortezze Praticamente Arthur Arthur e Dutch Vanno nelle caverne Per Per cercare Di salvare Javier E Dopo averlo salvato Arthur Viene distratto Da un albero gigante Con un tizio appeso Per essere torturato Ma dopo aver ucciso I tizi Che vogliono Torturare Arthur Scappano Ok Il tizio di colore E la banda Sono pronti Perché I militari Vogliono attaccare L'isola E dopo aver difeso L'isola La banda Di Dutch Rapisce Il capitano Per Per farli guidare Di nuovo Verso Saint Denise E quelle zone là Essendo Arthur Tornato lì Con il suo Nuovo cavallo Cammina verso Shady Bell Però Purtroppo Lì Non c'è nessuno E con una Lettera Scritta da Sadie Dicono Che si trovano In la Kai Dopo essere Dopo aver raggiunto Tutta la banda In la Kai Vengono attaccati Dai Pinkerton Dopo aver ucciso I Pinkerton Arthur A Saint Denise Viene E Si risveglia Dal dottore Che viene a sapere Che ha la tubercolosi Vi ricordate Tempo fa Quando per conto Di Strauss Lui doveva andare Dal tizio Che non si ricorda Il nome E farsi Prendere i soldi Che non è neanche preso Ecco Viene sputtato In faccia Mi sono dimenticato Di dire una cosa Che dopo La rapina Valentine Arthur Viene a prendersi I soldi Ecco Ecco Dopo questa cosa Che Ha tubercolosi Arthur e Charles Vanno A cercare Un nuovo accampamento Dove ci sono Dei cannibali Ucciso tutti i cannibali Tutta la banda Si trasferisce lì Ecco Allora Se Arthur E Sadie Visto che John Durante la rapina A Saint Denise È stato rapita Rapito Arthur e Sadie Vanno a prenderlo E riportarlo Nella Nella banda Dutch Aveva un altro piano Di aspettare Che praticamente Venisse Appeso Però Arthur e Sadie L'hanno preso Prima che venisse Appeso Quindi Dutch Voleva un pochino Che morisse Vabbè Arthur Dutch E Micah Aspettano Che Cornwall Parli con Pinkerton Per poi Uccidere Cornwall I Pinkerton Se ne vanno E Dutch Se ne approfitta Per uccidere Finalmente Levitus Cornwall Ecco qua Che arrivano Gli indiani A rompere Praticamente Gli indiani Chiedono ad Arthur Di rubare Dei cavalli Da un battello E dopo Li riportano Al posto Poi Aquila che vola No Pioggia che cade Chiede ad Arthur Di Di praticamente Andare a prendere Delle piante Per magari Farlo sentire Meglio Ecco E dopo Praticamente Pioggia che cade Fa conoscere Ad Arthur Come si chiama Questo qui Capitan Morro Per rubare Dei vaccini Degli indiani Cioè no Per rubare Dei vaccini Dall'esercito Anche se Morro E uno Dall'esercito Che bello Ecco Arthur Pioggia che cade E Capitan Morro Vanno da Da questo tizio qua Che sto zoomando Che non mi ricordo Il nome Per Per un po' Vedere Lottare contro I militari Visto Capitan Morro Uno dei Suoi membri E Lui Non vanno Tanto d'accordo Arthur Si sente male E va In quella tenda Precisamente lì Per riposare Un po' E sente Due tizi Là dietro Che parlano Dicendo Che lui Vuole tradire Capitan Morro E farlo uccidere Ma allora Arthur Che sa questa cosa Fa finta Di sentirsi meglio E Con Capitan Morro Pioggia che cade E Arthur Scappare Via Dopo aver sparato Tantissimo I tizi Di questo Di questo Rincoglionito Qua Ecco Mandano Capitan Morro Via E Arthur Li dice Anche di Evitare Guarma Allora Adesso Capitan Morro Si fa Una nuova Vita Ecco qua Che Ma E Calide A Di Rapinare Questo Treno Questo Treno Di Levitus Cornwall Anche se Morto Per rubare Delle obbligazioni E robe Importanti Ecco Ecco E Dopo Aver rubato Della dinamite Con Bill Per appunto Far esplodere I ponte Per far cadere Il treno Arthur Seedi Dacia Assistono All'impiccagione Di Questo Rincoglionito Di Colmo Driscoll Ecco Arthur E John Mettono Le dinamite Sul ponte Lo fanno esplodere Poi Arthur Consiglia A John Di Scappare Via Della Banda Perché Dacia Sta impazzendo Per colpa Di questo Maika Che già Dall'inizio Fa problemi Ecco Dacia Invita Con Aquila Che vola E così Arthur Con Gli indiani Per attaccare Una diligenza Dopo Arthur E Dacia Da soli Scappano Da Dai Militari E si Buttano Da un Dilupo Per non Farsi Sparare Dopo Questo Avvenimento Charles E Arthur Perché Pioggia Che cade Gli ha chiesto Di andare A salvare Suo figlio Aquila Che vola Vanno Fort Wallace Arthur E Charles Salvano Aquila Che vola E lo riportano Da Pioggia Che cade Arthur E Sadie Uccidono Gli ultimi Odriscoll Rimasti Dopo La morte Di Colm Ecco Adesso è arrivato Il Finale Arthur E la banda Vanno Da Vanno Da Aquila Che vola Perché Pioggia Che cade Disperato Visto Che Aquila Che vola Ed è Strano In testa Vanno Nella Fabbrica Tessile Che Aquila Che vola È fissato Per rubare Delle obbligazioni Mentre Arthur È ferito Dutch Lo guarda In faccia E lo Lascia Lo lascia Morire Questo maledetto Dutch Pronti Per la rapina Al treno Tutti Vanno A rapinarlo Andando A Saint Denise Ecco Dopo aver fatto Una strage John Viene sparato E cade Via E nessuno Poi lo Prende Tornando All'accampamento Arriva Tilly Con Jack Il figlio Di John Che ha Quattro Anni Dicendoli Dicendoli Di andare A salvare Abigail Che è Stata Rapita Anche Lei Ecco Andando A salvarla Con Sadie E Abigail Loro Tre Ritornano Arthur Saluta Sadie E Abigail Raccomandarli Mettendo Mettendo cose strane In testa Dutch Vabbè Ecco Arthur E Micah Si mirano In faccia Poi Dutch E tutti Mirano Arthur E John Che poi È ritornato Finalmente Arthur E John Vengono attaccati Tutta la banda Viene attaccata Dai Pinkerton Poi Arthur E John Scappano Tramite le caverne Prendono i cavalli Scappano ancora via Però poi I loro cavalli Muoiono Uccidendo I restanti Pinkerton Arthur Sfinito Con John Vanno in cima Alla montagna E poi Arthur Lascia John Li regala La pistola Li regala Il cappello La bisaccia Li raccomanda Di andarsene via Andare a Copperhead Landing Con la sua famiglia E Tilly Ecco Arthur Viene preso Di colpo Da Micah Micah lo uccide E Arthur muore Che bello 8 anni dopo Nel 1907 John Morto Arthur Purtroppo John E la famiglia Vanno A Strawberry Per Un nuovo Un nuovo Lavoro E Ecco Per cercare Un nuovo Lavoro John Lavora Di portare Da Strawberry Merce Al Porn Ranch E dal Porn Ranch A Strawberry Ecco Dopo Essersi Che sono Tight Dopo essersi Accampati Al Porn Ranch Perché adesso Vivono lì John Lavora Tranquillo Fa parturire I maiali Fa parturire Le mucche Salva i tori Porta le mucche Al ranch Blah 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 Ecco John Dopo aver Salvato Il ranch Da questo Qui John Lo piccchia E lo fa mandare Via Però Non è ancora Morto Durante La stessa Notte Cioè Durante La notte Dopo L'accampamento Viene svegliato Cioè nel senso Tutto il ranch Viene svegliato Da un attacco Dalla banda Restero incoglionito Qua Allora raggiungono La loro La loro base Che si trova Che si trova Dove c'erano Gli Odriscoll Dove c'erano Gli Odriscoll Ho visto che Sono morti Ecco Dopo aver attaccato La sua base Dopo averlo ucciso Sto qui Ehm Abigail e Jack Lasciano John Perché hanno litigato E allora A parte che L'hanno litigato Perché John ha portato Jack A farsi quasi Sparare Vabbè Ecco Abigail e Jack Hanno lasciato John Ecco L'hanno lasciato John Allora John Riceva un telegramma Da sedi Per dir lì Che lei lavora Con una cacciatrice D'Italia A Valentine Dopo ve l'ha aiutato Per aver cacciato Un tizio Che si chiama Nathan Ehm Ecco John vuole acquistare Beecher Soap Visto che Abigail voleva E per riprendersela Potrebbe acquistare Quello che lei voleva E essere felici e contenti Ecco Ma Ehm Ecco A Blackwater Dopo aver parlato Con il tizio Che vende case John incontra Zio Il vecchio membro Della banda Ecco Incontra Zio E Parlano Allora Dopo Zio Zio E John Vanno a Stadeniz Dove si trova Charles Cioè Dopo otto anni Anche Charles Ritrovano Ci manca solo Che ritrovano Dutch Vabbè Comunque Dopo aver portato Zio E Charles A Blackwater Con John Loro cominciano Un po' A prendere I materiali Per Cominciare a costruire Beach Soap Una nuova casa Che Abigail Vuole tanto Dopo che John Fa ancora Qualche Roba da cacciatore Di taglie Con sedi Prendono Definitivamente Un botto di pezzi Di legno E trasportano Tutta la merce Verso la Beach Soap Per poi Costruirla Dopo aver Costruito Beach Soap E dopo aver Cacciato Un'altra persona Con Sadie Zio Venne rapito Dalli Skinners Tipo dei criminali Che vivono Lì E Ecco E dopo Aver salvato Zio Perché è stato Quasi Scotto Cannibalizzato Cannibal John Porta Jack Visto che Finalmente Sono ritornati Abigail e Jack Si baciano Anche John Porta Jack A pescare Però Neanche lì Va bene Perché Rufus Il nuovo cane Viene Morso da un serpente Quasi muore Ecco Dopo John va ancora Con Sadie A cacciare Un altro tizio E dopo Tutti sti Cacciatori d'Italia Blablabla Blablabla Ecco John E Abigail Vanno a Blackwater Per fare Qualche passeggiata E poi vanno in canoa Dove John Chieda lei Di sposarsi La mattina Dopo Dopo Questo momento Noiosissimo Ma Diciamo Un po' Romantico Sadie Charles Raggiungono John A casa sua Per dirgli Dove si trova Micah Che lo hanno trovato Per vendicarsi Della morte Di Arthur Ecco Raggiungono Dopo aver ucciso Clit Due nuovi membri C'è due che erano Nuovi membri Raggiungono in cima La montagna E cercano Sto buffone Qua di Micah E dopo Che Anche Dutch È spuntato Praticamente Dutch Spara A Micah E anche John Spara A Micah Poi John Saluta Sadie Per sempre Anche Charles Per sempre Perché devono andare Vabbè Dopo qualche giorno Praticamente John Dai federali Li chiedono Di andare A cercare Bill Williamson E Javier Escuela Per ucciderli Oppure catturarli Per avere tanti soldi Visto che Adesso i federali Hanno rapito La sua famiglia Per costringerlo A rapire Sti Due rincoglioniti Vabbè John Aggiunge Fort Merced Dove dovrebbe Trovarsi Bill Infatti Si trova lì Però Bill Spara a John E si ritrova Al McFarlane Ranch Da questa tizia E praticamente Adesso siamo Nel 1911 Ragazzi Quattro anni dopo John Aiuta un po' Bonnie Per portare Le mucche Al posto Portare Ecco Poi Bonnie Fa conoscere A John Questa città Armadillo Dove ci sono Gli sceriffi Dove si possono Fare shopping Dopo aver fatto Robbe da donne Quindi shopping John aiuta Ancora un po' Bonnie Con i cavalli Per domarli E un po' Per queste cose Dopo anche Aver salvato Delle mucche Da una tempesta John Conosce Lo sceriffo Per Chiedergli Se può andare A attaccare La base Di Bill Però lui Dice Che ci sono Delle persone Che lui Deve conoscere Per avere Nuovi membri E riuscire Ad attaccare La base Allora Dopo aver fatto Una serie Di Una serie Di attacchi A dei criminali Con lo sceriffo E i suoi amici John conosce West Dickens Che potrebbe aiutarlo Alla rapina Se non Alla rapina Scusate All All'attacco A Fort Mercer Ecco Dopo Aver assistito A un paio Di Di Spettacoli Che West Dickens Fa Nel senso Che lui Tipo Vende Delle cose Strane A delle persone Praticamente Bonnie Viene rapita Viene appesa Viene appesa A Tumbleweed Allora Lo sceriffo Con John Devono andare A salvare Bonnie Con anche Il padre Di Bonnie Dopo Aver assistito A un altro Spettacolo Di West Dickens John conosce Seth Che potrebbe Distrarre Quelli di Fort Mercer E entrare Senza problemi A ucciderli Per trovare Bill E allora In cambio Per aiutare John John deve Aiutare Seth A cercare Una mappa Che lui Ha bisogno Per trovare Dei tizi Strani Così Che gli serve Dopo aver trovato Queste mappe Dopo un paio Di missioni E dopo anche Aver aiutato West Dickens John conosce Irish Che è l'ultimo Che potrebbe Aiutare John Per questo E Irish Dice John John E Seth Attaccano Fort Mercer Ma senza Un risultato Visto che si scopre Che Bill È andato In Mexico Ecco qua Irish Accompagna John In Messico Dove poi Conosce De Santa Che sarebbe Che sarebbe Uno di quelli Che potrebbe Aiutare John A cercare Javier Escuela Se vi ricordate Era un membro Della banda Allora Poi Vanno Praticamente Ad attaccare Un treno Dove si potrebbe Trovare Ma poi Purtroppo Non trovano Cavolo Di nessuno John Conosce Un amico Di De Santa A Escalera Dove poi Vanno A In un posto Ad attaccare Perché magari Chissà Javier Si potrebbe Trovare In quel posto Lì Un posto Vicino A Ciuparosa Dove poi Dove poi Potremo Avere il modo Di conoscere Landon Ricketts Che lui Praticamente Ci può Aiutare A Trovarlo No Ma alla fine Landon Ricketts Alla fine Non riesce A trovare Niente Ecco lui Landon Ricketts Dopo un po' Dopo un po' Dopo un po' John Va 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 A dar Landon Per Per Praticamente Salire Su un treno E raggiungere Un posto Dove c'è un Macellaio Per Andare Nelle Nelle Valli Come si dice In quelle piccole Valli Nelle caverne Per salvare La sorella Di Reyes Che lui Potrebbe Aiutare Che lei Potrebbe Aiutare John A cercare A cercare Javier Escuela E Reyes Appunto È un Mexica C'è Starebbe più Uno spagnolo E con la Soressa Eh sì Con la sorella Luisa Dopo che John Ha fatto Una partita Di poker Fallita Male Visto Che ha dovuto Uccidere Dei tedeschi Con Landon John Va Ad assaltare Un vagone Con Luisa E dopo aver fatto Altre cose Con Luisa John e Luisa Vanno A Fort Cioè no Al presidio Che sarebbe Un altro fort In Messico Per salvare Un Un tizio Un tizio Che praticamente Non mi ricordo Come si chiama Ecco Dopo averlo salvato Questo tizio Facciamo finta Che si chiama tizio Ecco Dopo aver salvato Tizio Tizio Aiuta John Per fare Una rapina A un treno Per avere Un po' di soldi Per poi Rapinare Finalmente Cioè per poi Assaltare E il presidio Trovano Javier E dopo un casino Lo buttano in prigione Poi addirittura Bill Javier Li dice dove si trova E dopo aver seguito La diligenza di Bill John Alla goduria Di uccidere Bill John E' obbligato Ad andare a Blackwater Per Perché i federali Li devono Li devono dire Una cosa Su Dutch Che possono trovare Dutch Andando in questa barca Per trovare Nastas Che sarebbe Un indiano Che potrebbe Aiutare John A trovare Dutch Ecco Con un'auto Appunto Vanno a trovare Sto Nastas Qui Ecco Dopo John Può conoscere Questo professore In cui Andranno a fare Una serie Di attacchi Ai membri Di Dutch Che sarebbero Degli indiani E dopo aver ucciso Questi indiani qua I federali invitano John Con la Gatlin A sparare tutti Finchè non si schiantano Con quel Camion Che portava La Gatlin Per poi Ritrovarsi Al campamento Di Dutch E poi Uccidono Sto cretino qua Mi spiace Dutch Però Ecco John Allora Visto che ha ucciso I tre membri I tre Suoi vecchi amici Che voleva Che doveva uccidere In cambio Della libertà Finalmente Edgar Ross In federale Dice a John Dove si trova La sua famiglia A Beecher Soap Si trova Ecco E Dopo Dopo aver portato Jack A A Bonnie Per comprare Del bestiame John Spara degli uccelli Per Abigail Che poi possono Mangiarlo per cena Cioè Che vergogna Vabbè Ecco Dopo Dopo John Porta Abigail Di nuovo Al Bonnie McFlaren Ranch Poi John Parla con Zio Adesso che Lavora con John Per andare A portare Delle mucche A posto Dopo Aver portato Le mucche A posto Nel loro Vecchio Ranch Arthur E Zio Vanno Cioè Scusate John E Zio Vanno A domare Ancora Dei cavalli Sempre per conto Di Staboni Qua Mi sono stufato Di lei Vabbè Poi John Raggiunge Suo figlio Mentre Sta leggendo Una cosa Per andare Con il cane Fino a Manzanita Per Per Praticamente Prendere Delle cose Dopo Dopo John Porta Jack A cacciare Dei cani A cacciare Dei lupi Dopo aver Dopo aver Aiutato Ancora Jack Con il cane Con i lupi Andando anche In cima Una montagna Praticamente Praticamente John Questo qui Porta Suo figlio Jack Di nuovo A casa Poi Ecco qua Che è la loro Casa Viene attaccata Da Dai Dai federali Visto che John Anche lui Era un membro Della banda Ecco qua John Lascia la sua Famiglia Visto che Devono salvarsi John Fa un respiro Esce fuori Di casa Dalla fattoria E viene Sparato Purtroppo John Muore Dopo aver Visitato John Morto Nel 1914 Jack Per Cercare Informazioni Per Trovare Dove Per cercare Dove si trova Edgar Ross Per poi Fare un duello E uccidere La minaccia Piutente Del west Dove Jack Sopravvive Ecco qua Ragazzi Abbiamo appena Finito Ci ho messo Non so Quanto tempo È quasi Mezzanotte Cioè È mezzanotte Sto registrando Questo video Da tantissimo Tempo Spero Vi sia piaciuto Il video E vabbè Ragazzi Che posso dire Ciao